Una vita dedicata al volontariato, due persone conosciute e stimate da tutti. Un frontale tra la loro auto ed un camper guidato da un turista tedesco ha messo fine alla vita di Giovanna Buso, 76 anni, originaria di Cessalto ma residente a San Donati Piave e al marito Ignazio Bertani, 81 anni. La tragedia è avvenuta sulla Romea nel comune di Codevigo, ferita la badante della coppia che si trovava in auto con loro dopo una trasferta a Rimini. Secondo una prima ricostruzione la Citroen C4 con a bordo i due coniugi avrebbe invaso la corsia opposta forse per un sorpasso azzardato o per un malore improvviso. L'impatto violentissimo, gravemente ferito anche il guidatore del camper, trasportato in ospedale a Padova. La 76enne aveva lavorato per anni come estetista o derzo e pordenone, il marito era invece geometra, aveva insegnato per anni matematica. Negli ultimi tempi l'81enne aveva iniziato a soffrire di Alzheimer e la moglie era sempre stata accanto al marito ed era diventata presidente dell'associazione di volontariato condividendo, attiva nella prevenzione e sostegno alla rete familiare.